Ora analizzeremo più in particolare la gestione dei beni usati con il metodo analitico. Nell'ultima parte ci occuperemo della liquidazione IVA sia con il metodo analitico che con quello globale. Quando registri una fattura ricevuta relativa ad un bene usato. Inseriti i dati di testata della registrazione, il fornitore e la contropartita economica, si sceglierà il codice IVA relativo all'operazione. Prima di chiudere la registrazione, occorre inserire i beni usati acquistati. Se hai abilitato l'apposito parametro, alla conferma della registrazione si apre la maschera di emissione. Altrimenti la dovrai richiamare manualmente. Si accede quindi a questa finestra dove si può selezionare un bene già codificato ed inserire un nuovo movimento su quel bene. Oppure si potrà codificare una nuova categoria di beni. In entrambi i casi occorre compilare i campi presenti. Come potrai notare, alcuni campi sono posizionati in maniera differente rispetto al metodo globale. In fase di vendita. Una volta compilati i vari campi. Occorrerà selezionare il bene di interesse. Bisogna ricordarsi di premere questo tasto per perfezionare la vendita. Si apre quindi questa maschera in cui la procedura propone l'operazione di vendita, la specifica di importo e aliquota IVA. Per gestire la nota di credito. Occorrerà richiamare la fattura. Selezionare il bene di interesse. Posizionarsi sulla riga della vendita e cliccare su questo pulsante. Nella maschera è attivo questo tasto che attiva il meccanismo per rettificare l'importo. Andrà infine inserito il valore della vendita con importo negativo. Con la gestione del regime del margine con il metodo analitico. È prevista la stampa di un unico registro, in cui sono riportate sia le operazioni di carico che di scarico dei beni usati. I movimenti vengono stampati in ordine cronologico, per data operazione, e suddivisi per mese. Da questa funzione. Lanciata l'elaborazione del periodo di riferimento. L'importo dell'IVA dovuta viene riportato accanto a questa voce. Cliccando su questo pulsante si apre una maschera in cui sono riepilogati tutti i calcoli e i valori che determinano l'IVA da liquidare. Con il metodo globale verranno considerate tutte le vendite e tutti gli acquisti presenti nel periodo. Da questa funzione, lanciata l'elaborazione del periodo di riferimento. L'importo dell'IVA dovuta viene riportato accanto a questa voce. Cliccando su questo pulsante si apre una maschera in cui sono riepilogati tutti i calcoli e i valori che determinano l'IVA da liquidare. Con il metodo analitico, saranno considerate le vendite effettuate sui singoli beni.